Ma la consegna torna in piazza? Stiamo lavorando per riportarla in piazza. Venerdì alle 10 e mezza ci sarà un comitato d'ordine di sicurezza pubblica convocato e presieduto la sua eccellenza al prefetto che valuterà la soluzione che abbiamo già in testa e che verrà proposta. Vedremo quali sono le condizioni particolari che consentiranno di fare la consegna in un luogo simbolico per la giostra del Saracino e poi alla presentazione della lancia diremo anche dove. Allora sono state valutate tutte le possibilità e sicuramente stiamo lavorando a una soluzione che riporti la consegna della lancia in piazza e venerdì saranno analizzati tutti i punti del piano dal punto di vista della safety and security quindi tutti i punti che riguardano anche l'ordine e la sicurezza pubblica dopodiché sarà presa la decisione definitiva sul nuovo cerimoniale.